Affinità di fattura Evidente l'affinità di fattura tra il primo apporto che appare al polso della stessa persona nella cui vano è fotografato il secondo apporto. Entrambe le materializzazioni sono giunte attraverso Domenico P, lo strumento del trentennale cenacolo Umanità in Movimento. Non si conosce il nome della destinataria. Gli apporti, quasi un migliaio, non sono stati catalogati e rimangono di proprietà dei destinatari.